Allora, quando si parla di speed bisogna fare necessariamente un passo indietro e capire che cos'è la nostra identità digitale. L'identità digitale è fondamentale perché è lo strumento con cui un sistema, un programma, riesce a capire chi c'è dall'altra parte dello schermo. Molto importante, dal 28 febbraio, grazie al decreto semplificazioni, l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione può avvenire solamente con le identità digitali previste per legge che sono lo speed, la carta di identità elettronica e per le amministrazioni che vogliono la carta nazionale dei servizi. Da settembre non saranno poi utilizzabili identità che sono stati o meccanismi di accesso che sono stati rilasciati dalle amministrazioni a differenza di questi. Quindi diventa fondamentale fare il focus su questi tre strumenti. L'identità digitale non è una coppia login e password, la percepiamo molto spesso come tale, ma in realtà è l'insieme delle informazioni che ci caratterizzano e quindi anche i permessi che abbiamo di svolgere determinate attività sui servizi online. Il primo meccanismo di utilizzo dell'identità digitale è quello che è stato utilizzato nei social network e anche oggi viene ancora utilizzato. Replay, ad esempio, permette l'accesso ai propri servizi, pur essendo un servizio pubblico, tramite l'accesso della piattaforma Google o di altre piattaforme. Perché viene fatta questa scelta? Perché l'utente risparmia tempo, non ha bisogno di fare un'ulteriore registrazione. Sfrutta la registrazione che ha già fatto presso un fornitore di identità, ha un'esperienza utente che già conosce e soprattutto, cosa non da poco, chi deve offrire il servizio non ha costi per il rilascio delle credenziali della password, perché viene gestito da un soggetto terzo che è il fornitore di identità. Ovviamente utilizzare le identità dei social network non è solamente vantaggi, ma ci sono dei grandissimi svantaggi. Non si è certo che il meccanismo di identificazione sia stato fatto in maniera corretta, con forza. Peggio ancora, il fornitore di identità può utilizzare i miei accessi ad altri servizi per analizzare il mio servizio, il mio comportamento e quindi farvi profilazione sopra. E soprattutto la sicurezza non è detto che sia sempre garantita, anche se la sicurezza è mediamente elevata, però può essere posta in subordine alla facilità di utilizzo. Allora lo Stato, qualche anno fa, ipotizzò di realizzare una soluzione che avesse solamente vantaggi. Il primo esempio di identità digitale garantita dallo Stato nasce intorno, come idea, agli anni 2000. Viene nel 2004, si arriva a formalizzare la nascita della Carta Nazionale dei Servizi, che di fatto nasce come smart card e poi eventualmente come pendrive. Ed è uno strumento estremamente sicuro. Assomiglia molto agli strumenti che vengono utilizzati per la firma digitale dell'epoca e vengono attivati esclusivamente solo dopo che il titolare è stato riconosciuto in maniera forte da qualcuno incaricato direttamente o indirettamente dallo Stato. Quindi le caratteristiche della Carta Nazionale dei Servizi e di tutte le identità digitali sono che sono emanate da una pubblica amministrazione o da qualcuno strettamente controllato dallo Stato. Quando il riconoscimento avviene tramite l'inserimento del PIN e il possesso dello strumento, vi è uno svantaggio che per utilizzare questo strumento è necessario essere dotati di un lettore di smart card. Un esempio di identità digitale diffusa su tutto il territorio è la tessera sanitaria che da anni porta con sé un chip che di fatto corrisponde alla Carta Nazionale dei Servizi. Quella che vedete è la campagna di comunicazione che ha fatto Regione Toscana una parte del video formativo, quindi con la tessera sanitaria, Carta Nazionale dei Servizi, si può accedere ai servizi della pubblica amministrazione, inclusi quelli che sono stati presentati in precedenza da Nicoletta. Ricordo il punto fondamentale per l'utilizzo di questo strumento è la necessità di utilizzare un lettore di smart card che porta con sé dietro la necessità di utilizzare una postazione fissa, in quanto in un device difficilmente potremo inserire una smart card, una connessione internet e quindi una postazione, un PC, quale che sia il suo sistema operativo. Per attivare la carta occorre ottenere il PIN che viene rilasciato esclusivamente dopo il riconoscimento fatto in maniera forte dagli operatori incaricati da Regione Toscana in questo caso sotto le regole decise a livello nazionale fondamentalmente dal Ministero dell'Economia e Finanze. Per ogni informazione per approfondimento qui trovate il numero verde e la URL dove trovare le informazioni ed eventualmente assistenza o anche teleassistenza. Che cosa ha fatto Regione Toscana riguardo a questo strumento di identità digitale? Ha fatto la promozione all'uso con informazione, ha fatto un'attivazione diffusa essendo nel titolare in primis si è preoccupata che in tutte le realtà, in tutte le territorie fosse possibile attivare questo strumento, ne ha gestito l'Help Desk e attraverso le proprie infrastrutture ha permesso agli enti che hanno voluto di utilizzare questo strumento come strumento di accesso ai propri servizi. Inoltre nel passato si è occupato, quando i lettori avevano un costo elevato, di sfruttare economie di scala per abbattere il costo di accesso per lo strumento. Carta nazionale dei servizi, che ricordo nasce formalmente nel 2004 ma c'era nell'area degli anni 2000, non è riuscita al 100% a raggiungere gli obiettivi per cui era nata. Per esempio, l'esperienza utente non è così facile, non è possibile utilizzarla ovunque occorre una postazione fissa e questo ci crea l'utenza in un poche difficoltà e non sempre è facile effettuare le installazioni necessarie e la configurazione necessaria. Quindi nel 2016 nasce l'evoluzione del sistema dell'identità digitale, il famoso SPID. SPID è una federazione, una collaborazione fra vari soggetti, i più conosciuti sono i gestori dell'identità, quei soggetti a cui ci si può rivolgere per ottenere l'identità, i fornitori di servizi, nel caso che abbiamo visto, regione toscana piuttosto che comune di Firenze, e i gestori di attributi qualificati che non sempre sono percepiti o percepibili dall'utente ma sono quei soggetti come gli ordini che garantiscono ad esempio che un soggetto è abilitato all'esercizio di una professione. Quando vogliamo ottenere SPID dobbiamo andare a rivolgersi presso uno dei attualmente nove fornitori di identità che hanno sorpassato il percorso di accreditamento previsto da Agi, l'Agenzia dell'Italia Digitale. Lì vedete in slide il sito di riferimento per SPID che vi consiglio fortemente di utilizzare è www.speed.gov.it. Lì sono presenti tutti e sole le informazioni necessarie e ufficiali. Per ottenere SPID che cosa necessita? Necessita un documento di riconoscimento valido per dimostrare la nostra identità, un indirizzo email, un numero di telefono cellulare che normalmente si usi non condiviso per l'utilizzo di SPID con altre persone e poi la tessera sanitaria con il proprio codice fiscale. SPID a differenza di carta nazionale dei servizi si pone il problema di garantire una semplice esperienza utente e quindi va a graduare la complessità dell'autenticazione su tre livelli. Il primo livello di fatto è una coppia login e password che viene rilasciata al momento in cui si richiede SPID. Con il primo livello si può accedere a servizi che non presentano particolari criticità. Molto, molto pochi, fondamentalmente siti informativi dove vogliamo personalizzare i nostri bookmark piuttosto che i nostri riferimenti. Il secondo livello, maggiormente utilizzato, è un livello che oltre al login e password necessita di una one-time password ed un codice aggiuntivo che generalmente viene ottenuto o tramite un SMS o tramite un'app presente sul cellulare che abbiamo dichiarato in precedenza. È più forte rispetto al precedente perché per accedere a questo sistema un malintenzionato dovrebbe essere, dovrebbe aver ottenuto sia la nostra login e password che dovremmo conoscere solo noi, sia il nostro telefono senza che noi ce ne rendiamo conto, riuscire a sbloccare il telefono e quindi riuscire ad accedere. Il secondo livello è quello che per esempio viene utilizzato per il sistema PORTOS per accedere ai servizi. Esiste anche un terzo livello che rappresenta il massimo livello di sicurezza che prevede l'utilizzo di un dispositivo di accesso tipo una smart card o anche una smart card virtualizzata presso un data center ed è un servizio di massima sicurezza paragonabile a quella che è la Carta Nazionale dei Servizi in termini di sicurezza. È importante sfatare qualche luogo comune che ahimè si è venuto a creare nel tempo. Speed può essere acceduto almeno nella forma Speed livello 1, Speed livello 2 in modo assolutamente gratuito. Il massimo livello invece può prevedere un costo. È possibile avere più Speed, più identità, una per ogni fornitore di identità. Questo è comodo per un professionista perché qualora vi fosse un malfunzionamento di uno dei fornitori di identità può utilizzare l'altra identità per continuare a lavorare tranquillamente. Non è necessario uno smartphone per quanto comune, ci sono realtà che ci sono soluzioni che prevedono l'invio di un SMS e quindi basta un telefono cellulare normale. Una cosa importante, il fatto che il fornitore di identità sia un privato non significa che lo Stato non ci sia, anzi lo Stato vigila e effettua meccanismi di accreditamento e di assessment di sicurezza in continuazione. Il meccanismo è abbastanza simile a quello che viene utilizzato per le firme digitali, così come lo Stato vigila sulle firme digitali e lo Stato vigita anche sul sistema Speed. Speed si è estremamente diffuso nell'ultimo periodo e può essere utilizzato sia per l'accesso a pubblica amministrazione, cosa che è obbligatoria a breve con il decreto semplificazione, ma può essere utilizzato, questa è un'informazione in più, anche per accedere a servizi privati che utilizzano Speed. Ad oggi sono solamente 15 servizi privati che permettono l'accesso con Speed, siamo in fase di crescita e verosimilmente Speed potrebbe diventare uno dei meccanismi che va a rafforzare la sicurezza, non solo nel mondo della pubblica amministrazione, ma anche nel mondo dell'economia privata. Alcune piccole informazioni di dettaglio, come scegliere il service provider, come scegliere l'identity provider, il fornitore della nostra identità digitale. Sul sito Speed.govit vi è l'elenco e le caratteristiche di ogni singolo identity provider, quali sono i livelli di sicurezza che vengono forniti, l'area geografica che il sistema copre, alcuni sono validi solamente in Europa, altri possono essere rilasciati in tutte le parti del mondo. Se è possibile effettuare il riconoscimento di persone, così mi reco presso uno sportello e vengo riconosciuto, se è possibile effettuare un riconoscimento da remoto, in maniera tale da non dover uscire neppure dall'ufficio o dall'abitazione, se è possibile effettuare il riconoscimento con firma digitale, oppure con la carta nazionale di servizio, oppure con la carta di identità elettronica ultimo gestione. Inoltre viene specificato laddove sia possibile utilizzare Speed senza uno smartphone, bensì solamente con una ricezione di un SMS, quando è gratuito e quando è a pagamento. Che cosa ha fatto Regione Toscana all'interno del circuito Speed per favorire la diffusione? Promozione, Difulgazione. Ha attualmente, ha recentemente sottoscritto una convenzione di attivazione diffusa, comunicata a tutti i comuni del territorio a fine dicembre dall'assessore Gioffo, e sta occupandosi di formare degli operatori per il riconoscimento. Quindi ci aspettiamo nei prossimi mesi che sempre più realtà di pubblica amministrazione, principalmente comuni, ma non solo comuni, anche strutture sanitarie, vengano a dare il proprio contributo, aprendo degli sportelli per il riconoscimento fisico delle persone che hanno bisogno di utilizzare Speed. Ricordo che per i professionisti che hanno già la firma digitale disponibile, possono svolgere questa attività completamente in remoto. Oltre a questo, offre supporto a tutti gli enti per permettere l'accesso tramite il sistema pubblico di identità digitale. Una informazione in più, Speed non è solo una realtà italiana. Speed è uno strumento riconosciuto in Italia e notificato in Europa, per cui, vedete nella tabella a fianco, ci sono già degli stati membri che accettano l'utilizzo di Speed per l'accesso ai propri servizi della pubblica amministrazione. Questo per inquadrare l'importanza che ha questo progetto, che ricordo ha preso il via solamente dal 2017, quindi siamo a quasi cinque anni del servizio. Nel frattempo, dal 2001 al 2015, vi era un'altra identità digitale disponibile, che era la carta di identità elettronica. Questa in realtà ha subito dei passi falsi, dei piccoli fallimenti, quindi nel 2016 viene deciso di ripartire con la ridefinizione delle caratteristiche tecnologiche e di processo e quindi nasce la nuova carta di identità elettronica, la cosiddetta versione 3, a cui prima Nicoletta faceva riferimento. La carta di identità elettronica è il principale documento di identità, perché viene rilasciata da un ufficiale di anagrafe e quindi è l'anello più vicino alla realtà dell'identità della persona, viene rilasciata dal comune, non viene stampata immediatamente, viene stampata da Poligrafiche Zecca dello Stato e viene ricevuta dal titolare entro sei giorni, insieme a un PIN e un BUC. Può essere utilizzata similmente alla Carta Nazionale dei Servizi. La differenza principale è che non è a contatto, mensì ha un chip a radiofrequenza. Con un lettore a radiofrequenza collegato al proprio PC è possibile utilizzare la carta in maniera simile a quella a cui siamo abituati per la Carta Nazionale dei Servizi. Utilizzando invece un smartphone che possiede un lettore NFC, fondamentalmente tutti i smartphone di fascia medio alta attuali, è possibile utilizzare la carta di identità elettronica appoggiandola sul retro del telefono e inserendo il PIN. Poi nel 2019 è stato realizzato il cosiddetto scenario ibrido che a mio avviso è di particolare interesse. L'utente che cosa fa? Naviga nella propria postazione desktop e trova il pulsante Entra con carta di identità elettronica. A questo punto effettua la scelta di proseguire tramite lo smartphone. Sul proprio PC va a inserire il numero della carta di identità elettronica che è indicato in alto a destra sulla carta fisica. Il sistema sul desktop restituisce un QR code. Prendiamo il nostro smartphone sul quale abbiamo installato l'applicazione dedicata che si chiama CAD. La apriamo e inquadriamo il QR code che ci viene mostrato a video. Appoggiamo la carta, inseriamo il PIN sul telefono. Il telefono ci restituisce un codice numerico, una one time password, una password provvisoria che andiamo a reinserire nel PC. A questo punto abbiamo effettuato l'accesso al sistema. Che cosa ha fatto Regione Toscana su questo servizio? Essendo un servizio del Comune e del Ministero dell'Interno non ha potuto ovviamente effettuare meccanismi di help desk o di rilascio, però fa promozione e permette l'accesso ai propri servizi a tutti gli enti che vogliono abilitare l'accesso anche a questo strumento con carta di identità elettronica.